I ladri di biciclette non passano mai di moda, anzi sono sempre attivi e sempre più audaci e agiscono in pieno giorno. Bici da donna, da uomo, sportive o cittadine non fa differenza, purché siano di marca e costose. Ultimamente sono rimbalzati sui social e sono arrivate anche alla nostra redazione numerose segnalazioni di furti avvenuti in pieno giorno o durante l'orario di lavoro, come nei pressi di Via delle Rimembranze, dove è stata portata via una mountain bike assicurata con ben due lucchetti ad una ringhiera del valore di 500 euro. O come ultimamente è accaduto ad un fanese preso di mira a cui sono state rubate alcune bici marca Via Veneto del valore di oltre 300 euro l'una di una nota azienda locale, o come anche quelle di un altro marchio storico cittadino, anche queste prese di mira e lasciate in pieno giorno in centro, legate a un palo ma portate via con grande disinvoltura. Ultimamente nemmeno lasciarle davanti ai vigili urbani è servito, il ladro ha inforcato la bici e se l'è data a gambe, anzi a pedali, ma fortunatamente poi i vigili urbani lo hanno rintracciato e acciuffato poco distante, grazie ad alcune telecamere. Sembra però che nulla li scoraggi, ci dicono i malcapitati. Raffaella Gaudenzi, suo reporter di strada, dice A me sono entrati addirittura nel giardino di casa e se la sono portata via da sotto la mia finestra. Anche le forze dell'ordine confermano che è un fenomeno sempre vivo ed attuale, ma in calo, forse in aumento in alcuni periodi dell'anno. Ma come potersi difendere? I rivenditori di bici non hanno dubbi. Acquistare un lucchetto adeguato. Spendere diverse centinaia di euro per la bici e poi lesinare sul lucchetto è da stupidi. Quelli da pochi euro si tagliano con estrema facilità, basta una buona tronchese e via. Uno discreto e robusto invece viaggia almeno dei 15 euro in su. Il massimo poi è il cavo d'acciaio che abbraccia tutte e due le ruote e si fissa ad un sostegno, come un palo o una ringhiera, rendendo il lavoro dei ladri più rognoso e alla vista del quale i ladri passano oltre. Le gare, come spesso accade, solo una ruota davanti al portabici spesso regala brutte sorprese. Al nostro ritorno la sola ruota davanti sarà l'unica cosa che ci rimane della nostra bella e costosa bici.